Sono Emilio Gaggini della Cinomania e con questo breve video descriverò le parti che compongono il nostro recinto invisibile Doctrace 101 e descriverò anche brevemente il suo funzionamento. Noi siamo rivenditori per l'Italia della Doctrace e centro assistenza per i prodotti Doctrace fra cui anche appunto il recinto invisibile. Il recinto invisibile nasce come deterrente a che il cane, il vostro cane o i vostri cani non fuggano dalla vostra proprietà, dal vostro giardino o dal vostro box o dalla casa stessa. Il kit è semplice da montare anche senza l'ausilio di un tecnico specializzato ed è composto da una centralina, da una bobina di filo da 100 metri, da un collare per il cane, da un trasformatore per la centralina stessa, una batteria in dotazione appunto per il collare, per alimentare il collare, una chiavetta magnetica, due coppie di sonde più corte e più lunghe, dei tasselli per ancorare la centralina al muro ed una luce spia, nonché istruzioni in italiano ed un dvd pubblicitario. Il montaggio è semplicissimo, si fa correre il filo lungo il perimetro che si vuole recintare. Questo filo può essere messo sottoterra, sott'acqua, lungo una preesistente barriera, semplicemente agganciato alla rete che delimita la vostra proprietà. Il filo parte dalla centralina, percorre il perimetro, volendo si possono fare anche dei sottoperimetri per delimitare ad esempio degli aiole, una piscina. È importante però che il filo percorra appunto il perimetro e poi ritorni alla centralina. Il filo emette un'onda radio e il cane o i cani, quando si avvicina a questo perimetro, ossia l'onda radio emessa dal filo, prima riceve un segnale acustico, se poi il cane continua ad avvicinarsi riceve una scossa. Il cane associa la scossa al perimetro e dopo due o tre volte evita di ricommettere l'errore, ossia di avvicinarsi al perimetro stesso e quindi non fugge dalla proprietà perché si ritrae. L'amperaggio della scossa è praticamente zero, quindi danni fisici non ce ne sono, tipo la scossa della portiera della macchina che a volte capita di prendere o la scossa del maglione di lana quando lo si toglie. Quindi danni fisici non ce ne sono, però è una scossa che dà fastidio al cane. Poi il cane è piuttosto intelligente, i cani sono piuttosto intelligenti e un po' tutti i mammiferi hanno come un forte deterrente la scossa e quindi dopo due o tre volte, ripeto, il cane desisterà e non si avvicinerà più al perimetro. Il livello di simulazione del collare è regolabile. Con questa chiavetta magnetica di cui vi dicevo si può regolare appunto questo livello. Si appoggia la chiavetta magnetica al palino rosso presente sul collare e si fanno fare tanti bip quanti si vuole che siano quelli della programmazione. Ad un bip ad esempio corrisponderà un livello di simulazione basso, due bip un livello di simulazione più alto e così via fino a otto. È importante regolare il livello di simulazione a seconda soprattutto della taglia del cane. Più è grosso il cane, più avrà bisogno di un livello di simulazione grosso. Un altro parametro però che entra anche in gioco è la vivacità del cane, il temperamento del cane. Più un cane ha un temperamento vivace, più sarà il caso di aumentare il livello di simulazione. Vedrete poi che dopo due o tre volte il cane desisterà e non si avvicinerà nemmeno più al perimetro. Il collare funziona con una batteria da 3 volts in dotazione, si inserisce all'interno del collare stesso e dura circa un anno. La batteria si trova facilmente, una batteria facilmente reperibile, ripeto da 3 volts, sono quelle soprattutto impiegate per i flash delle macchine fotografiche. comunque si trovano molto facilmente e ripeto dura circa un anno. La centralina invece è alimentata da un trasformatore con la presa di corrente, quindi è importante che nei pressi della centralina ci sia una presa di corrente e la centralina ha due manopole, due potenziometri, tipo volume dell'autoradio. Con un potenziometro si stabilisce quanto il cane, a che distanza il cane riceve la scossa. Con l'altro potenziometro invece si regola a quale distanza il cane riceve il segnale acustico. Le sonde in dotazione sono due coppie, una coppia di sonde corte e una coppia di sonde lunghe. Le sonde sono importanti perché ovviamente devono premere contro la cute del cane, che il cane senta la scossa. E' importante mettere delle sonde corte nel caso il pelo del cane non sia particolarmente folto, ma delle sonde un po' più lunghe nel caso il pelo del cane sia particolarmente folto, perché ripeto le sonde devono premere contro la cute. Questo impianto ha in dotazione nel kit 100 metri di filo, però la centralina sopporta fino a 1200 metri di filo, quindi perimetri anche molto lunghi, fino a 1200 metri. E' possibile aggiungere delle bobine di filo, quindi acquistare a parte delle bobine di filo da 100 metri l'una e semplicemente giuntare i fili come un normale filo elettrico. Anche i collari sono implementabili e quindi nel kit è in dotazione un collare, però si possono aggiungere più collari, quanti se ne vuole, numero infinito, e quindi con la stessa centralina si gestiscono più cani. Per ultimo la luce teste. E' una luce che permette di testare il funzionamento del collare. Si inserisce sui due elettrodi e ci si avvicina con il collare al perimetro. Se la luce si accende significa che il collare sta dando la scossa. Per qualunque altra informazione, per altre delucidazioni, non esitate a contattarci. Grazie! Grazie!